Estra sponsorizza i giochi nazionali estivi Special Olympics dal 4 al 9 giugno a Montecatini Terme e Valdinievole. Apre i giochi la Torch Run, la tradizionale staffetta che da Firenze sta portando la torcia verso la sede dei giochi. Estra Clima sostiene le imprese toscane e marchigiane. Presentato ad Ascoli il bando di finanziamento di Energy Saving. A disposizione 6 milioni di euro per l'efficientamento energetico e lo sviluppo sociale del territorio. Il metano arriva a Porto Ercole. Sarà Estra, con la società di distribuzione Centri a Reti Gas, a portare il gas naturale nella località dell'Argentario entro un anno dall'apertura del cantiere, prevista per il prossimo autunno. Premiate a Prato le 25 scuole vincitrici di Limita lo Spreco Aiuta il Mondo, il progetto sostenuto da Estra contro lo spreco alimentare ed energetico per la prima volta esteso agli istituti scolastici di tutta la Toscana.